Benvenuti ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video qua sulla Minecraft in the world sulla nostra survival del mio canale, qui è il vostro Gallo Gaming che vi parla sono in compagnia ancora per questa volta con NicoBTT, Nixby e Cristian Bush, salutate Ok si è volato, il nostro povero Vinci Gio in questi giorni non potrà venire Raga, i tuoi lupi si attaccano, ah no è vero, inseguono il coniglio, bastardi non toccate il coniglio Ops, l'ho ammazzato io il coniglio Quindi raga, stavo dicendo che in questi episodi Cristian Bush, questo si chiama, che Vinci Gio non potrà Non verrà perché sarà in vacanza, quindi è andato da altra parte delle montagne, non è ancora tornato, non è andata ancora la notizia Ma ci stiamo un po' preoccupando di lui, prima o poi tornerà, prima o poi se non tornerà dovremo andarci comunque Sarà morto O sarà vissuto, boh lo scopriremo nei prossimi episodi No Nico, perché le hai tolti? Servivano per le aprile ceste Ah, pensavo, ah no questo l'ho messo nulla Raga, vabbè non faccio tu che sei Ok, in questo episodio cercheremo di quasi completare la casa e anche il tunnel Vabbè guarda, vorrei vedere un attimo ai ragazzi che bel mare che c'è là, là Sì, è molto bello No, non mi dare Mannacchia Dai, stiamo facendo la sopravvivenza, non dobbiamo morire Oddio Io mi faccio il bagno Perché l'avete zappato qua? Perché qua non c'è il tunnel, Gabri Oh scusa, ma almeno per fare la finestra, qualcosa del genere Che vedete Che vedete Danna Che vieni qui Vediamo qua I binari Agab, mettete sotto nei commenti hashtag mamma di Nixby Agab Se vogliamo fare la ferrovia ci servono dei sei lingotti d'oro Moltiplicato per quanto lunga vogliamo farle Che dovrà 16 16 per 4 Sarò un numero di minecraft Polpo, polpo, possiamo fare la forma di pecore Col polpo La? Farma di pecore Per avere lana infinita Me l'ha droppata? Sì, me l'ha droppata Me l'ha droppata Me l'ha droppata? 3 Mamma mia Troppo forte Che ci fanno dei polli? Se avete dei pezzi di lana mi servono Oh cristo Oh cristo Non è Aiuto C'è una cosa Capri Vieni qua Oh si stanno accoppiando i cani Capri Ok Ok Ho preso un po' di ferro Dai costruiamo la prima ferrovia Aspettate Lo so farei io Lo so farei io Gabri c'è un metodo infallibile Sì dobbiamo cercare un secchio Però il secchio dove lo troviamo Ok il secchio Il cactus rompe la roba Fidati Ok ok Fai te Da A me Qua Io sto facendo la Il secondo piano Oh garazzo Puoi interrompere un attimo il video Però ragazzi Che devi fare il cristo Che devi fare il cristo Mi ha mandato un altro Mi ha mandato un messaggio Vai E che fa Vedilo Grandissimo Ho della ferrovia Ho 33 32 blocchi Eh si 32 Ehm Raga dovete Mi serve Mi serve Dobbiamo fare una stazione La botola Raga come si faceva la botola? Guardate un attimo voi che voi non c'avete Il Quello del cristo Del computer Ma ci fa La botola La si butta Si butta tutta Guarda tu butti qua tipo Le ossa E loro si rompono Ok però Dobbiamo stare attenti Oh dobbiamo fare la ferrovia Quindi dobbiamo cercare Di fare una piccola amministrazione Grandissimo Possiamo usare quella struttura La Fin Mi Che Mi porta tanta linea di quercia Tanta linea di quercia Ho trovato un tesoro Nelle vecchie nell'altra cesta. Cosa? Venite, vieni. Mi sape legna. Legna sta tutta qua. Io mi ci butto, va bene? No, no, aspetta, non ti ci buttarà ancora. Posso prendere? Oh, Nico, vieni qua, abbiamo trovato un tesoro. Dove, dimmi, dove sei? No, Cristian, fermati, fermati. Mi seguono i materiali. Madonna. Io mi ci butto. Ho preso tutto. Oh, prendiamo dei cartelli e scriviamo di chi è quella casa, le varie ceste quali sono, almeno così. Ok. Mi è venuta un'idea, raga, mi è venuta un'idea, se vi piace. Raga, come si faccia la botola? Mi serve un attimo un aiuto. Qualcuno mi fa una botola? Siete la faccio io? Come si fa una botola? Io non posso farla perché mi serve un carigno che mi faccio con i piani. Vieni il legno. Vieni il legno, Cri. Quanto te ne serve? C'è che ci sono tradotti tutta tu. Grandissimo. Oh, faccio l'amministrazione. Mi è venuta un'idea favolosa, se volete sentire. Andate, cominciate ad andare a vedere se vi piace. E farla sopra al secondo piano, fare al secondo piano. Il secondo piano lo so cominciare a fare io, se volete aiutare. Sì, una parte, una parte di quello di sopra, facciamo la stazione. Guarda che ho scritto, Gabriel. Me l'hai fatta? Dammela. Ma dove? L'hai buttata là dentro? No. Ah, no, eccola, eccola, eccola. Questo è un tavolino. Pazzatura. No, grazie, facciamo fare il legno. Sì, ma qua facciamo una stazione, facciamo una stazione. A proposito, devo vedere cosa c'è da questo. Ma io in verità volevo fare, tipo, come ti posso dire? Una, 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 come ti posso? Ah, ah, ah. Oh, scusa, scusa. Oh, oddio. Ti ho ucciso? Raga, è meglio che ci rintaniamo di nuovo dentro casa, perché stai facendo notte. Ho fatto i letti, andiamo a dormire. È il primo, primo al corso all'inferro. Andiamo a dormire, raga. Aspetta, aspetta. A dormire. Ahia. Oh, ma io non me ne sono accorti, dentro l'invento ricevo le cani da zucchero. Così faccio la farm. Io volevo costruire una cosa, mi si è pure scortato. Ah, sì. Dovevi costruire il secondo piano? La farm di cactus e la farm di... Qualcuno mi... Ah. Di cani da zucchero. Ok, mi serviva un piccone. Grazie per chi... Ce l'ho? No, no, ce l'ho, ce l'ho. No, vabbè, ragazzo, fai il... Come vi posso dire? Avete visto quando a casa ci sta il balcone? Che certi c'hanno il balcone col tavolino fuori che mangiano fuori, all'aperto? Eh. Eh, da cui lo so fa. Bravo. Sta venire una piccata. Ho fatto... No, cioè, Gabrie, cioè, vieni a vedere. È proprio un contadino, sono io. Vieni a vedere fuori, puoi vedere i tuoi iscritti. Guarda, piantagioni di cactus e piantagioni di anne da zucchero. Tutto io. Grande, molto grande. Qualcuno ha delle atti di legno? No. Sì. Io c'ho la clay e la lana. L'ho provato della lana. Devo farla subito con la sacca d'inchiostro. Sì. Ora la mia vita ha un senso con la lana nera. Deposito un po' di roba qua dentro perché c'è sicuramente. Dai. Eh, ma a questo punto non deve essere mai più incredibile. Mai. No, no. Solo nel server. Nella sopravvivenza o mai? Sfattatura, bla. Si scrive bua, non bla. Ma bla è più figo. Ci sta. Vabbè, sei akab, questo è il punto. Appunto, io sono akab. Ah, dai, a me non mi trovo la sabbia, non so. Dai, ecco qua. Adesso ti ho stato tutto qua dentro. A chi serve carbone? A chi serve carbone? Io sto morendo. C'è che a quest'ora ha un... Nixpear, te lo sei militato. Nixpear, guarda che ti ho dato. Vettitelo. Sto impegnato. Che vuoi? Eh, eh, che vuoi? Guardalo, guardalo. Sto facendo... No. C'è che c'ho un tappetino? Quelli là della lana colorati, tipo. Io ti ho pochissimo di andare a mangiare, quindi ho tirato il video per pochissimo senza di me. Però torno subito. Ora non vado subito. Io te li faccio di lana bianca. No, no, oi, che è che mi dà un po' di legno? No, non metto lì. Ecco, eccoci qua, raga. Ecco qui, abbiamo completato. Raga, aspetta, mi serve una cosa troppo importante, è troppo su leg. No, vabbè, guardate che ho fatto io e Cristian. Venite da me. Voi venite giù, c'è di da me. Carazzi, guarda che ho fatto. Dove? Ho fatto anche il posto per mangiare fuori. Grande, bravo, bravo. Allora, guarda che ho fatto io, io ho un po' di legno. Cristian ha messo la cosa più importante, il tappetino. Dai, è molto carino. Questa casa è veramente una dolcezza. No, no, è bellissima. L'unica cosa che c'è... Oh, raga, sto facendo anche la ferrovia per portarla in centro nel mio vecchio posto. Come mi è piaciuto a posta casa? Guarda, se stavamo facendo un tutorial, ce la mettevo proprio subito. Ok, e raga, dobbiamo interrompere perché il video è passato, il tempo. Grazie. E' finita. Beh, raga, per questo video è tutto. Ci vedremo al prossimo episodio. Comunque, spolliciate per avere le nuove avventure qua sul Minecraft Survivor. Iita, ringrazio ai miei amici. No, vabbè, aspetta, puoi vedere se il posto ho creato adesso, Gabri. Ancab. Troppo, troppo figa. Nico BTT. Vabbè, ormai il tempo è scaduto, non mi spiace. La prossima volta. Vabbè, vieni a vederla a te. Vieni a vederla a te. Vabbè, per questo video è tutto, raga. Spolliciate, commentate, condividete questo video se vi è piaciuto. No, è troppo agga. Guarda che entrata. Tipo una specie di bocca di coccodrillo tu ci entri dentro, è buono. Vabbè, è anche molto agga. Vabbè, per questo video è tutto. Lasciate tante pollicioni in su, al massimo 7 per un prossimo episodio qua su Minecraft Survivor Ita. Quindi, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, anche il canale dei miei amici. E iscrivetevi. Il più importante è quello mio, quindi iscrivetevi. Quindi, raga, ci si vede a un prossimo video su Minecraft Survivor Ita in the World. Quindi, ci si vede, raga. Bella, raga. Io corro, io corro, devo andare. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.